ben tornati a buongiorno verona live siamo in diretta sul canale 640 del digitale sulla nostra pagina facebook io sono giorgia preti e qui con me c'è meri malaguti direttrice di fondazione aida benvenuta grazie di cuore allora innanzitutto io partirei da fondazione aida perché è una bellissima realtà che in tanti conoscono però io andrei a spiegare insomma cosa fate quando siete nati anche tra un po facciamo i nostri 40 anni per cui precisamente nel 2023 per cui è sicuramente un'età ragguardevole in un territorio che negli ultimi appunto anni come sapete è stato difficile non solo il nostro territorio ma in tutto il mondo e essere ancora qui direi che è un grande risultato pur avendo delle situazioni che sono stati sicuramente ci hanno messo alla prova tra l'altro negli anni noi abbiamo avuto anche una situazione un terremoto che non perché gestiamo gestiamo anche spazi in giro per l'italia un terremoto che ha riguardato appunto il territorio dove noi eravamo presenti e quindi anche per lì lì è stato un momento di grande situazione particolare che però poi alla fine siamo riusciti a resistere in qualche modo anche lì quindi ci mancava solo la pandemia poi adesso direi l'inondazione poi abbiamo chiuso il cerchio no però insomma ne siete usciti bene quindi questo è l'importante sicuramente ne siete usciti bene e non solo perché insomma vi siete dati da fare per portare anche nuovi prodotti nuove nuove iniziative anche a Verone non solo parliamo per esempio della nuova piattaforma di edutainment interattivo teatro on life ecco di cosa si tratta? Beh diciamo che il lockdown ci ha messo in grande difficoltà perché il nostro pubblico per noi è fondamentale ed è quello che incontriamo tendenzialmente ogni domenica a teatro il teatro ha un elemento che è determinante che è quello dell'incontro col pubblico tra le forme artistiche probabilmente è la forma artistica che ne ha più necessità perché l'attore ha necessità di sentire il pubblico rispetto anche all'azione teatrale che avviene sulla scena quindi ci siamo chiesti come continuare questa connessione con il nostro pubblico pur avendo un problema del fatto che non si poteva andare a teatro sapevamo che molte realtà in Italia avevano deciso di proiettare online o sui social le loro produzioni diciamo video legate agli spettacoli ma per noi era una cosa che non aveva senso cioè il teatro ha bisogno dell'interazione del pubblico quindi abbiamo cercato di capire come potevamo creare questa interazione col pubblico e abbiamo iniziato a sperimentare con una piattaforma che tutti conoscono che è quella di zoom e non siamo stati gli unici hanno fatto anche degli esperimenti in giro per il mondo tra cui in America proprio legata alla piattaforma del zoom e però zoom è una piattaforma che ha limiti enormi per chi vuole fare performing arts per cui abbiamo abbiamo deciso di investire su questa nostra idea e abbiamo creato un srl con due programmatori in modo particolare Alessandro Gallo e Stefano Piermatteo e insieme a due ragazzi che con noi lavorano nell'ambito artistico che abbiamo deciso di investire le nostre competenze in questa srl che si chiama onlife labs e questo ci permette sostanzialmente attraverso una app e attraverso questa piattaforma di avere un'interazione col pubblico completamente diversa da una semplice piattaforma come quella che ho prima citato per cui da domenica 21 c'è il primo sperimento perché noi siamo ancora in fase di sperimentazione in cui c'è la possibilità dei bambini insieme ai genitori di partecipare allo spettacolo e di avere dei momenti interattivi ovviamente abbiamo fatto un piccolo step è un finanziamento che ci è stato reso possibile grazie a due soci fondatori della fondazione AIDA australiani che sono Luciana e John che ringrazio anche qui e sicuramente ci sentiranno poi domani visto che adesso in Australia è quasi sera e anzi è sera tra un po' vanno anche a letto ma questo è un paio di un'altra questione e quindi di fatto noi andiamo a presentare questa progettualità per merito anche di questo finanziamento speriamo in un futuro che altre aziende possano credere in questo progetto con noi perché ripeto si tratta solo di un piccolo step le attività che si potrebbero fare sono bendonde rispetto a quello che noi realizzeremo già domenica beh pazzesco direi veramente un'iniziativa incredibile ecco e tra l'altro sempre tra il 18 e il 21 di novembre quindi da domani insomma si parla anche di una di la zise tra le pagine quindi un appuntamento con tante tante personalità di spicco del mondo chiaramente editoriale ecco anche qui vi siete dati da fare per portare di nuovo il pubblico ad un evento a la zise insomma sul lago diciamo che tra le tante attività di fondazione aida che oltre ovviamente produrre spettacoli teatrali distribuirli portare in giro per l'italia ma anche all'estero si occupa diciamo che noi ci occupiamo di attività culturale tut curta cioè quindi sia musica sia teatro sia incontri con l'autore questo progetto di la zise di cui tu parli non è un progetto nostro ma è un progetto del comune di la zise siamo stati chiamati a programmare gli incontri con l'autore farlo come un mini festival in cui ci sono una serie di appuntamenti tra l'altro in uno spazio meraviglioso che è quello della dogana d'acqua che c'è appunto a la zise con degli autori di fama nazionale e poi l'ultimo appuntamento non meno importante appunto questo incontro invece che si terrà a pacengo insomma una rassegna anche qua importante i nomi che insomma che ci hai citato meri sono veramente molto molto importanti sicuramente conosciuti a livello nazionale quindi insomma invitiamo tutti gli interessati magari a documentarsi a cercare più informazioni anche sulle pagine instagram facebook insomma sul sito anche di fondazione aida e io meriti ringrazio per essere stata mia ospite è stato un piacere ce l'abbiamo fatta perché ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta d'altronde ce ne sarebbe da parlare penso per delle ore di fondazione aida perché sono veramente tante le iniziative i progetti che avete in cantiere sicuramente avremo modo di parlare anche dei prossimi ah volentieri benissimo e allora grazie in bocca al lupo per tutto grazie a voi per l'accoglienza bene allora adesso diamo spazio al nostro palinsesto musicale noi torniamo tra pochi minuti grazie